I reparti covid nel Salernitano si svuotano. In totale sono 17 ricoverati, di cui solo uno in terapia intensiva, nessun paziente in rianimazione all'ospedale Ruggi d'Aragona, nel capoluogo dove sono solo tre i posti occupati. In maggioranza si tratta di persone non vaccinate. Anche allo scarlato di scafati calano i numeri delle persone ricoverate, solo un paziente in terapia intensiva e 13 in pneumologia. Intanto si aspetta ora di verificare cosa accadrà sul fronte contagi dopo la riapertura delle scuole, anche se la situazione per il momento è sotto controllo, come conferma Otto Cian e Luisa Francese, direttrice dell'ufficio scolastico per la Campania. L'anno scolastico è iniziato senza grossi problemi. Sono stati rispettati gli spazi, non abbiamo fenomeni di docenti novax. È una comunità scolastica che sta riprendendo volentieri il rientro in presenza. Fondamentale per la direttrice francese evitare la DAD. La DAD porta dietro tanti problemi, perché se andiamo in DAD significa che la pandemia continua e noi speriamo che questo, soprattutto anche per i ragazzi, ma per tutta la comunità, speriamo che questo non avvenga e che i ragazzi possono riprendere in mano la loro vita. Per ora tutto tranquillo, conferma Claudio Nadeo, presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Presidi. Tutto sotto controllo, per ora sta funzionando, anzi forse si è fatto tanto rumore per nulla, come ho già detto, perché per ora sta andando bene e speriamo di andare così.